Ragazzi, preparate il cesto perché è lunedì, grandissimo dividend day in Italia, quindi tantissimi dividiti da andare a raccogliere. Spero che molti di queste azioni che staccano dividendo siano nel vostro portafoglio. Dittemelo eventualmente nei commenti, ma andiamo a vedere rapidamente la carrellata delle azioni che staccheranno dividendo lunedì 22 novembre. Stiamo parlando di Banca Generali, ce l'ho, Banca Mediolanum, ce l'ho, Banca Profilo, non ce l'ho, Danieli, sia con le azioni ordinarie che con le azioni risparmio, Fineco Bank, ahimè, non ce l'ho, però me la tengo controllata, Intesa San Paolo, ce l'ho, Mediobanca, ce l'ho, Poste Italiane, ce l'ho, Ricordati, la mia migliorazione in portafoglio, ce l'ho, Tenaris, è ritornata a distribuire il dividendo dopo che l'aveva sospeso qualche anno fa, l'ho venduta, ma nessun rimpianto, e ultima, in ordine alfabetico, ma non per importanza, la mitica Terna con il suo dividendo semestrale. Quindi mi raccomando, ditemi nei commenti quali di queste azioni sono nel vostro portafoglio ed eventualmente se alcune di queste vi piacerebbe andarla a inserire in portafoglio o magari incrementare nel qual caso sia già presente nel vostro portafoglio. Un saluto da Lorenzo, a presto, ciao!